Vai! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, lui e Jack E lei è Teresa Se non vi ricordate di noi, ogni tanto compaiamo in tv Dunque, stasera dove ci troviamo? Jack? Alla Dispettica, Sicilia, K24 K24, niente, siamo qui ospiti E' una mega super serata e vediamo dopo cosa succede E oltre noi ci sono anche i casting, come me e notte Super serata Ovviamente, soprattutto i casting Uncest tos Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.